E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sanex e oggi signori siamo tornati nel nostro fantastico Rimo Planezu Allora, prima di iniziare io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di condividere questo video fantastico, questo gioco eccezionale E' molto lagoso, molto lagoso perché mi avete detto che è normale perché ovviamente adesso il processore e la scheda video devono elaborare un sacco di cose Quindi stiamo andando un po' a rilento, ma comunque ancora ce la facciamo Allora, ci sono tante novità che devo farvi vedere e spero di ricordarmelo tutte Abbiamo abbellito ancora un po' il Safari, abbiamo aggiunto l'entrata, guardate che bella Poi abbiamo messo un po' di decorazione qua e là nella coda di entrata Io non capisco sempre perché è molto vuoto, molto vuoto non lo capisco Dovrebbe essere pieno di gente che fa la fila per vedere questi fantastici animali Ma invece ancora non è partito alla grande Come vedete gli animali scorrazzano felici Che cos'è sta cosa? Ah, lo struzzo, il cucciolo di struzzo Scorrazzano belli felici, mi avete detto di rendere questa montagna accessibile anche agli animali Lo abbiamo fatto, credo che possa andare bene Abbiamo creato questa specie di salitina Dove poi possono arrivare qua e potrebbero farsi anche il bagnetto privato Qualora lo volessero Abbiamo sistemato anche l'altezza del tracciato per quanto riguarda il 4x4 Abbiamo sistemato molte cose In base anche ai vostri commenti Cari ragazzi abbiamo messo qua il villaggio africano Abbiamo cercato di ricreare un po' l'atmosfera africana anche all'interno del safari E poi abbiamo la nostra piazza Anzi grazie a chi mi ha detto anche di come A che cosa serviva il negozio vuoto Ovviamente il negozio vuoto è il contenitore Poi il contenuto è sempre il negozio classico Chi è sta cosa? Questo qua niente Questo era in più Lo possiamo eliminare Bene, bene, bene Ecco questa è la piazza appunto Vi dicevo che abbiamo messo Queste sono le toilette Per i nostri ospiti Abbiamo creato questa zona di ristoro Con i tavoli Ovviamente tutto tema Africa ragazzi E queste Vabbè a parte queste fiori, piante Però era tanto per abbellire un po' Questa bella piazza Fatemi sapere magari cosa ne pensate È un bel colpo d'occhio Devo dire che sono abbastanza soddisfatto E qui potremmo andare adesso A mettere magari una bella gabbia per gli elefanti Non lo so effettivamente se gli elefanti Credo sia troppo piccola qua la gabbia per gli elefanti Però vediamo intanto un attimo Che animali possiamo andare a prendere Nello scambio animali Ho sistemato anche molti animali Dove si era Era finita Non vi era più la coppia Quindi c'erano o due femmine O due maschi Insomma ho cercato di sistemare un po' il tutto Poi abbiamo ancora gabbia vuote Ragazzi questo non ho avuto tempo Perché ho perso tantissimo Per fare la piazza Per sistemare altre cose Ma le farò Le farò C'è un macello di gente qua Ma che c'è Per guardare i cosi Qua ci sono i Ah eccole qua I vari rossi E i lemuri Boh chissà Vabbè tutti qui Ehm Come vedete abbiamo anche un animale malato Che te pare Chiama veterinario Ehm Ah ecco L'unica cosa ragazzi che ancora non mi è chiaro È il Non so se è un bug effettivamente O è un È un problema nostro E ci continua a dare questo avviso Che la struttura ha effetti negativi notevoli Sulla gente Noi la struttura La abbiamo effettivamente coperta Quindi non si vede Però mi continuo a dare come se fosse Un Come se fosse ancora scoperta Quindi fatemi sapere magari Eh Non lo so Come potrei farla Io l'ho coperta Qua non si vede una mazza Ma intanto il Nostro avviso continua A esistere Quindi Ehm Non abbiamo nessun problema A parte questo Dove abbiamo Sì abbiamo chiamato il veterinario La struttura La ricerca veterinaria è completa Lo zoo Ripeto L'ho sistemato quasi tutto Lo L'abbiamo Abbiamo curato Tutti i malesseri degli animali Quindi possiamo andare avanti Adesso Vediamo quali altri Animali potremmo avere A livello di zebbre Invece Scusate un attimo Scambio di mano No zoo Le zebbre Quante ne abbiamo Perché una era morta Ricordo Un attimo Un attimo Un attimo Struzzo Ne abbiamo Un macello Abbiamo due maschi Una femmina Eh Due maschi Una femmina di zebbre Aspetta perché Non so sicuro Che possono stare due maschi Zebbre di pienura Un attimo qua Un attimo qua Sì fino a 3 e 6 Va bene Possiamo stare Ecco questo non mi è molto chiaro Fino a un maschio Quanti maschi possono stare 3 e 6 3 e 6 Fino a un maschio 3 e buh Vabbè per adesso Fino a quando dicono Che è tutto a posto È tutto a posto Va bene Allora vediamo Quali animali Possiamo andare a mettere Finalmente Abbiamo anche 1600 credit di salvaguardia Che Voglio dire Porca miseria Potrebbe È il nostro record Non abbiamo mai avuto così tanti Oh Vediamo un po' Abbiamo L'elefante Abbiamo il jaguaro No il ghebardo È però solo uno Mannaggia Il fagocero Eccolo qua Elefante africano Abbiamo due femmine 1600 È peccato Non ci arriviamo per Un pelo Il bongo Bison Tantilepo nera Ammazza Oh certo che l'africa È l'elefante Ragazzi È bello tosto È a livello di Di prezzo Di prezzo Allora facciamo così Iniziamo a prendere L'elefante Dai Iniziamo a prendere L'elefante Quanti ha 27 anni Già Ammazza Oh Ma non sarà un po' grande Però longevità 67% Questo viene da uno zoo Privato Quindi questo L'hanno venduto Vabbè Questa Questa A 154 Ovviamente Ha caratteristiche Nettamente superiori L'annuncio scaderà Tra 5 minuti Prendiamo questo elefante Poi ragazzi Piano piano Lo andremo a riempire Allora Volevo metterlo Provare a metterlo qua Ovviamente L'elefante Ha bisogno Di uno spazio Infinito Vediamo Per lungo Ecco La faremo Tutta questa gabbia Non so se sarà sufficiente Però lo proviamo Allora Iniziamo Ecco Sì Mettiamo pure qua Gli elefanti Accanto Più Più africano De così Ragazzi Non si può fare Allora Lunghezza Abbassiamo un po' Eccolo qua Mettiamo una curva Una bella curvetta No Ok Grazie Curva di qua Curva di là Curva di qua Curva di là Non si può Togliere Scusi Signore Un attimo È vero Che avremmo Dovuto toglierlo Però Sapete com'è Magari Dà Alla gabbia Una Una forma Un po' più particolare Ecco Diciamo così Sì 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 Usiamo questa bella scusa Ok Ok Et Voilà La Je son fait Rive plus Va bene Ora Aspetta 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 Qua è aperto Però Aspetta Qua è aperto Ok Adesso Dobbiamo semplicemente Vedere se Effettivamente La dimensione È bello grande Devo dire È bello grande Però sapete come Gli elefanti Sono grandi Altrettanto Poi vedremo Se magari Spostarli Nel safari O meno Ancora non ho ben capito Se possiamo farlo Però intanto Gli facciamo Questa gabbia E vediamo Se può andar bene Allora L'abitat è creato L'animale Lo abbiamo preso Sta nel deposito Giusto E dunque Scambio animali Invia lo zoo Oh perfetto Allora Destinazione non valida Perché Probabilmente Ecco appunto Lo sapevo C'era il Il muro Aperto Allora Un attimo Andiamo qui Recinzioni Questo muro qua Lo dobbiamo chiudere Per favore Dobbiamo chiudere qua Possiamo chiuderlo È là Ok Adesso dovrebbe andar bene Scambio animali Andiamo in via lo zoo E vai Ha bisogno di tanto 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 spazio Deve essere proprio Gigantesco Il suo habitat Elefante africano Deve essere grande Ben 2151 Metri quadrati Ammazza Oh Vabbè Bello grande Effettivamente Fa fede alla sua mole Quindi andiamo un attimo Avanti col tempo Aspettiamo Vediamo Quanto sarà grande questo Mazza Guardate che bello Però ragà Veramente bello E quanto spazio hai 4361 Signori Però Può sembrare tanto Adesso Può sembrare tanto Ma dobbiamo mettere L'acqua Dobbiamo fare Il rifugio al coperto Anzi già al 100% Come mai Non si sa Però Può Può andar bene Ragazzi Potremmo chiuderlo qua Effettivamente Fare due gabbie separate Vediamo Qualora facessi così Famo Un attimo Voglio fare questa Piccola prova Ragazzi Scusate Possiamo approfittare Di questa Di questa curva Ad esempio Così adesso Quanto sarebbe Ecco Perfetto 2500 Qua ci facciamo Un bel laghetto Ottimo Ovviamente Queste piante Possono andar bene Sì La caccia Però Aspetta Le leviamo Così un attimo Ho una visuale più libera E poi ci mettiamo Qualcosa di più Caratteristico Se vogliamo Allora Vediamo intanto Il terreno Prima Anzi Prima facciamo l'acqua Ragazzi Perché ogni volta Creiamo Creiamo l'acqua E poi si Si va a A modificare Anche tutto il terreno Circostante Ovviamente Quindi A livello di terreno Andiamo a fare un po' d'acqua Ha bisogno di 148 metri quadrati Di superficie in cui si può Nuotare Quindi facciamo qua Il bel laghetto Facciamo bello profondo Ovviamente L'elefante è bello grosso Ok Oh Ovviamente Non ho idea Di quanto possa essere grande così Sarà sufficiente? Ma Chi lo sa Chi lo sa All'allugniamo fino a qua Ok Bello 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 Mi piace Vediamo se può andare bene 148 Un attimo che calcola Oh Perfetto Più che sufficiente Però adesso Infatti Perfetto Siamo andati Siamo scesi un po' Troppo Quindi dobbiamo Dobbiamo Restringere Un attimo Questo Terreno Oh Questo è perfetto Signori Ottimo Allora Rimettiamo pausa Andiamo a modificare Un attimo il terreno Ha bisogno di più erba corta Ok Molta meno erba lunga Oh L'erba lunga Signori Non piace Nessuno È Incredibile L'erba lunga Non la vuole nessuno Poi più Terra Ecco qua Un bel po' Di terra Ok E a livello di terreno Più o meno Ci siamo Possiamo mettere anche un po' Di pietra In realtà Qua Bene Ok E qua ci siamo Rifugio al coperto Zero Ovviamente Non ne ha Non ne ha Non ne ha Quindi Dotazione ancora nulla A livello di ambiente A livello di ambiente Sarebbe già Pronto Perché non ha bisogno di piante Lui è abituato Alla Bioma Alla savana Al bioma africano Quindi non gliene frega Una mazza In realtà Di avere le piante Devo vedere più che altro I muri Quanto devono essere alti Dunque 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 Grado 4 2 metri Ok Quindi Questo è sufficiente Andiamo a mettere Intanto Il suo Ecco Deve essere bello grande Ovviamente Asia No C'è Africano Eccolo qua Rifugio africano Per l'elefante Mazza Oh C'è un po' più piccolo Nuovo mondo Nuovo mondo Mazza Gigantesco Questo No Questo È bello grande Ragazzi Direi che Allora vabbè Mettiamo questo africano Dai Mettiamo questo africano Te lo butto No te lo metto Ammazza Sei grande Te lo metto Posso metterlo qua Anche se ce la porta No Perché c'è il muro Giustamente Non glielo posso buttare qua Perfetto E allora Te lo metto a questo punto Ce lo giriamo Te lo butto da questo lato No Eh 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 Ok E poi li apriamo per i clienti Perfetto Eh dunque 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 Questo lo buttiamo Come detto Lo buttiamo Qui Ok Va un po' Ad invadere qua Però vabbè Non fa niente Credo Poi Già ci io Grande foglie Perché ovviamente Mazza Vallo a riempire tutto Comosto coso Ecco questo Extra large Così Famo prima Perché se no Qua ci perdiamo Le ore Per riempirlo tutto Mi dispiace Che sia sola Poverina Più che altro Ne abbiamo bisogno Di un'altra È il prima possibile Perché le dobbiamo Far accoppiare Perché gli elefanti Sono animali Che costano Quindi Se questa dovesse Morizzitella Poverina Capite bene Che avremmo rovinato Un sacco di soldi Porca miseria Va bene Ok A livello di questo Carnice Questa la Gliela buttiamo qua Questa cos'è Quella che fa l'acqua Credo Giusto Cascata con un cornice Metallica Va bene Questa gliela buttiamo qua Così anche si sollazzano Un bel po' E qua Abbiamo creato Un attimo Dobbiamo modificare qua Perché non è Al massimo Liscia Ok Perfetto Allisciamo qua Ragazzi Ottimo Oh Leviamo questa cosa Che è orribile Orribile Ok 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 Bene 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 Dunque Vediamo cos'altro Ha bisogno Il nostro amico Ovviamente Le dotazioni Le dotazioni Habitat Elefante Poi Mangiatoio a barile Sospesa Questa mi piace Gliela buttiamo qua Mangiatoio grande Mangiatoio media Mangiatoio piccola Espansione Abbeveratoio grande Gliene mettiamo due Uno e due Anzi Uno glielo vorrei mettere Un attimo E questo lo spostiamo Glielo buttiamo qua Almeno Per i visitatori Più che altro Lo spostiamo qua Uno E uno Due Oh Così chi passa Anche per andare al safari Mentre qua si fa la coda Almeno può guardare l'elefante Ecco Diciamo così Perfetto E poi Vediamo un po' Rifugio al coperto Va bene Questo l'abbiamo fatto Questo l'abbiamo fatto A livello di terreno È perfetta Proprio in linea Siamo Proprio al limite Copertura zero Le dotazioni Le stavo mettendo Probabilmente Ne avrà bisogno Di altre Palla grande Ne mettiamo Uno Due Tante palle Mettiamo La pozzangara di fango Che lui Se diverte Gliela buttiamo qua No Non si può mettere Gliela buttiamo qua E pneumatico Grande Due Oh Pieno di dotazioni Pallo per grattarsi Gliela buttiamo pure Dov'è? Qui? Qui? Da qualche parte Grazie Per il resto Ragazzi direi che Dovrebbe essere sufficiente A mio avviso Trottola Ecco Ah bella questa Trottola Va bene Gliela buttiamo così Va bene Mettiamo play E vediamo se Effettivamente Effettivamente È così Casha Kesha Anzi Scusate Kesha No Mazza Perché? Ah probabilmente Per questa Per la pozzangara Aspetta Leghiamo questa E mo? Te va bene? Signore elefante Probabilmente Ragazzi La superficie È diventata inferiore A causa appunto Del rifugio Però è di pochissimo Quindi Basterebbe Veramente poco Per allungarla Per ingrandirla Tipo fare Ad esempio Così Aspettiamo Aspettate Vediamo se Riesco Ecco Adesso è perfetto Vedete Bastava veramente Pochissimo Per Rientrare Nei parametri Quindi a livello D'ambiente Ok Dotazioni Ok Pedigree Socialità Ovviamente Si sente sola Ovviamente Si sente sola Vediamo se nel frattempo Hanno aggiunto Qualche animale Aggiorniamo la lista Attenzione Arriva Alefante africano Maschio Perfetto Lo adottiamo subito Dimensione piccolino Immunità Così se questo è otto Conale Va bene Dai Invia lo zoo Oh E famo una bella coppia Ragazzi Lei è femmina Si Kesha Certo è femmina Perfetto Nel frattempo Che costruiamo L'habitat Hanno Aggiornato anche La lista animali Oh Famo pure la coppia D'elefanti Fatemi sapere Definitivamente Se magari possiamo Andarla a mettere Anche Nel Nel safari Che limite Li spostiamo Anche lì Oh guardate che bello Aspetta ve lo faccio vedere Ammazza quanto sono fighi Sono veramente belli Signori Oh Mo abbiamo fatto la coppia Speriamo che Si accoppino In modo proprio Infinito Ecco bravo Metti un po' d'acqua Metti un po' d'acqua là Perfetto signori Ottimo 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 Sono veramente Molto felicio E soddisfatto Bravo Gioca Giocate Guarda come giocano Felici Bene 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 E che dovevamo fa Ok abbiamo messo anche Lo schermo Con gli altoparlanti Oh cazzo no Oh porca miseria Attenzione È successo qualcosa Di brutto Eh l'alefante qua Ha caricato Signori Eh che famo Un attimo eh Ok praticamente ho visto Dalla Zopidia Ragazzi Che il grado di resistenza Deve essere almeno 4 Questo era 2 Quindi l'ha praticamente distrutto Eh per Dobbiamo mettere questo Reda d'acciaio Raga Credo È elettrico Grado di resistenza 6 No credo che questo possa andare bene Magari fatemelo sapere voi nei commenti Ammazza Oh Mettiamo questo Per carità Un attimo eh Signore elefante Non si Infervorisca eh Non si secchi Mi scusi eh Non volevo farla in nervosi Signore elefante Però forse è un po' troppo basso Ragazzi Non lo so Io non mi fido molto eh Ok Vediamo adesso Beh perché se carica Ragazzi Non è che proprio Stiamo a sicuro eh Che posso fa? Ecco quindi Questo già mi fa capire Che magari Nel safari Se se mette pure a caricare le macchie Non è che proprio È il massimo della sicurezza eh Quindi magari Meglio se lo lasciamo qua Vediamo Vediamo Magari fatemelo sapere Abbiamo messo ora questi Dovremmo essere Al sicuro Tanto quello si sta facendo Il bagnetto Che carino Questo è morto Chiamiamo il veterinario Il varano Beh eh Di vecchiaia Vabbè Fino a quando muoiono di vecchiaia Ragazzi Anzi Siamo Felici Che gli abbiamo dato L'opportunità di vivere Una vita intensa Fino alla fine E basta signori Abbiamo messo questo Abbiamo messo quell'altro Poi lo andremo Magari a modificare Un po' come volete voi Quindi detto questo Fatemi sapere la vostra Qua sotto nei commenti Se c'è qualcosa Da modificare All'interno Di quest'habitat Degli elefanti Iscrivetevi al canale Qualora vi piacessero Queste belle serie Lasciate un bel like Condividete E basta signori Noi ci vediamo La domani Con dei nuovi video Se no Il prossimo episodio Di Planezu Vediamo Quegli altri animali Andremo a mettere Ciao 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 Ciao